Benvenuti a 7 giorni in 70 secondi, dove vi raccontiamo in pillole gli avvenimenti più importanti della settimana. Apriamo il nostro DG con una novità sui piani terapeutici. L'aggiunta regionale ha ulteriormente prorogato la validità sino al 30 settembre. Le vaccinazioni proseguono, ma dobbiamo ricordarci che il vaccino da solo non basta. Bisogna continuare a rispettare le regole, igienizzare le mani spesso con il gel disinfettante o con acqua e sapone, evitare gli assembramenti e indossare la mascherina quando si è in posti chiusi o in situazioni che non permettono il distanziamento di sicurezza. Questa settimana è andata in onda una doppia puntata di 15 minuti con, dedicata alla ginecologia oncologica. Nella prima parte del live abbiamo parlato di patologie oncologiche e tumori della mammella, insieme al professor Pirgio Gioccalò, direttore della Chirurgia Generale Polispecialistica del Duilio Casula, e la dottoressa Stefania Farris. Mentre, nella seconda parte della puntata speciale, abbiamo parlato delle ultime novità sul trattamento meno invasivo dei tumori ginecologici applicato al Policlinico Duilio Casula, insieme al direttore della ginecologia e ostetricia Stefano Angioni e il professor Valerio Mais. Se vi siete persi la puntata, la potete trovare sul nostro sito. Come di consueto vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e LinkedIn. Potete leggere le nostre news sul canale Telegram A.U. Cagliari e per chiedere informazioni potete inviarci un messaggio su WhatsApp al numero 338 7194434. Buon fine settimana a tutti, noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Grazie a tutti.